Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui per fare decisamente un qualcosa che non faccio tutti i giorni. Infatti quest'oggi volevo fare un po' una classifica di 5 brawler che durante il 2019 sono stati devastanti. Infatti durante questo anno ragazzi ci sono stati tantissimi aggiornamenti ma soprattutto un sacco di bilanciamenti. Bilanciamenti per brawler che erano appena usciti e non erano proprio bilanciati. Bilanciamenti semplicemente per cambiare un po' il gioco, quando poi sono uscite le nuove abilità stellari hanno dovuto cambiare un sacco di cose. E quest'oggi vi parlo appunto di 5 brawler che secondo me hanno fatto di più la differenza in un determinato periodo del gioco. Ovviamente fatemi sapere anche la vostra sotto nei commenti scrivendomi se siete d'accordo, se siete contrariati e fatemi altri esempi di altri brawler che sono stati devastanti. Fatemi sapere se vorreste altri video del genere lasciando un bel mi piace a questo video, mi raccomando. Iscrivetevi anche al canale se non questo è fatto perché siamo sempre più vicini ai 750.000 iscritti. E prima di iniziare con il video volevo lanciarvi un altro contest, boom, ve l'ho detto ormai ci saranno contest ogni settimana. Per partecipare ragazzi mi dovete venire a seguire su Instagram perché vi parlerò e vi spiegherò per bene tutto il contest proprio nelle stories di Instagram. Questo qui è il mio profilo, in palio ci sono come al solito le gemme su Brawl Stars. Potete partecipare tutti ragazzi, basta venire a seguire le regole appunto nelle mie stories di Instagram e ovviamente venitemi a seguire. Detto questo ragazzi, iniziamo con questa classifica. Ripeto, è una classifica personale, non voglio impormi con le mie idee, è semplicemente un mio parere. Quindi ragazzi siate buoni nei commenti se siete contrariati da quello che andrò a dire. Anche se secondo me la prima di cui vi vado a parlare è un po' difficile che siate contrariati perché parlo di Shelly con Cerotti. Quanto era forte Shelly appena è uscita la seconda abilità stellare che fu Cerotti, ragazzi era troppo troppo forte. Soprattutto in sopravvivenza quando aveva un sacco di power up che quindi raggiungeva tipo i 10.000 punti vita, utilizzava Cerotti, li recuperava tutti ragazzi ed era impossibile buttarla giù. Ancora mi ricordo quando in live facevo per esempio delle amichevoli con tutti i ragazzi appunto e mi seguono in live qui su YouTube, utilizzavamo tutti quanti Shelly praticamente. Infatti dovetti bannare Shelly con Cerotti perché altrimenti utilizzavamo tutti quanti appunto Shelly con Cerotti. Fortunatamente l'hanno depotenziata. Diciamo che secondo me adesso come abilità stellare è abbastanza bilanciata. Infatti vi dico che personalmente utilizzo Shock al Piombo che è l'altra abilità stellare, che quella rimane comunque molto molto buona. Secondo me Shelly rimane comunque un brawler da depotenziare o meglio da bilanciare, non è molto bilanciato secondo me Shelly. Ha dei punti deboli come però ha dei punti molto forti, giusto per farvi capire. Nel competitive molto spesso viene anche bannata però non è così tanto utilizzata perché effettivamente non ha una sua specialità particolare. Come ad esempio Piper che da lontanissimo ti fa malissimo però in determinate mappe fa schifo. Quindi ci sono tutti questi brawler che in alcune mappe fanno schifo e in altre mappe sono fortissime. Invece poi c'è Shelly che è forte un po' in tutte le mappe ma in nessuna fa la differenza effettivamente. Quindi bisogna trovarle un po' una specialità anche se però effettivamente essendo il primo brawler che vai a sbloccare ci può stare che è bilanciato in quel modo. Il secondo brawler e qui ragazzi anche non potete non darmi ragione perché il gioco l'ha depotenziata per ben due volte è Rosa. Appena uscita Rosa probabilmente è il brawler più forte che sia mai esistito su questo gioco. Era un fottutissimo carro armato ragazzi, Rosa era un carro armato appena uscita, non potete dirmi di no. Aveva lo scudo che per esempio non la potevi mai buttare giù perché praticamente abbassava la percentuale di danno in maniera clamorosa, non gli toglievi nulla. Durava un sacco di tempo e praticamente tu in footbrawl puoi prendere anche la palla a centrocampo con lo scudo ed entravi con tutta la palla in porta che tanto non ti buttavano giù e ti durava fino a che non entravi in porta. Infatti raga tanta roba quel periodo Rosa la vedevi ovunque in ogni modalità, in ogni mappa, la utilizzavano tutti. E l'hanno depotenziata appunto per ben due volte, sia i danni, l'hanno un po' bilanciata, gli hanno tolto un po' di tempo allo scudo, hanno un po' depotenziato lo scudo stesso. E vi dico che ai tempi, perché fu il primo brawler che portai al grado 20 se non sbaglio, anche Serena fu il primo brawler che portò al grado 20 quindi a 500 coppe, ma la portammo quando ancora arrivare a 500 coppe non era poi così semplice perché quando c'era ancora il sistema dei trofei che ad ogni vittoria ne prendevi solo 5, ne perdevi anche parecchi eccetera eccetera. Insomma non era facile scalare ai tempi, perlomeno fino a 500 coppe e vi dico che io la portai sopra quando ormai l'avevano depotenziata al massimo e anche Serena non la portò su quando ancora era fortissima perché non facemmo in tempo. Mi sa che ai tempi non nerdavamo ancora così tanto, quindi niente, non sfruttammo questa super mega potenza di Rosa. Perché praticamente quando uscì dopo neanche un'oretta la gente già ce l'aveva a 7-800 coppe ragazzi e voi non immaginate quella prima stagione quando uscì Rosa che cosa era successo su Brawl Stars? Il panico. Ora su questa cosa che sto per dirvi molti voi potrebbero essere effettivamente contrariati perché questa potrebbe essere una scelta abbastanza personale. Mentre Shelly e Rosa ragazzi penso che siamo tutti d'accordo. Sto parlando di Penny con la sua prima abilità stellare dopo che la potenziarono, ovvero che resero le palle di cannone che andavano a colpire gli avversari dopo che il mortaio esplode. Praticamente prima, agli inizi, l'abilità stellare consisteva solamente nel fatto che il mortaio esplodeva e tutte le palle di cannone andavano a caso. Invece poi col tempo, come sapete e come funziona anche adesso, le palle di cannone sono precise, hanno un singolo obiettivo e lo puntano e così almeno è tanta roba, soprattutto in rapina e assedio. Il problema è che questa abilità stellare ai tempi non la potenziarono solamente da questo punto di vista, ma aveva anche più palle di cannone. Cioè tipo adesso non ricordo bene quante ne spara, precisamente non me lo ricordo, ma mi pare che tolsero 2-3 palle di cannone per renderla quella che è adesso, che secondo me è abbastanza bilanciata. Infatti ai tempi in rapina e assedio si utilizzava solamente Penny appunto con quell'abilità stellare e si vinceva sempre. Cioè bastava mettere il mortaio nella zona della base nemica insomma e una volta il mortaio veniva fatto fuori, una marea di palle di cannone raggiungevano l'obiettivo, stessa cosa in rapina ripeto, e facevi praticamente la metà del danno. Cioè bastavano 2-3 mortai buttati lì e vincevi. Poi l'hanno bilanciato e l'hanno resa normale. Ecco qui qualcun di voi potrebbe essere contrariato perché effettivamente quella Penny era così tanto devastante unicamente in rapina e assedio. Mentre nelle altre modalità in realtà ragazzi Penny è diventata abbastanza forte da quando il mortaio adesso ha la seconda abilità stellare. E secondo me Penny è una dei brawler più bilanciati in assoluto nel gioco probabilmente attualmente. Ora parliamo di un altro brawler che è stato depotenziato svariate volte. Da quando l'ho sbloccato non l'hanno mai potenziato e sto parlando di Leon. Leon ragazzi agli inizi era troppo forte, ma proprio regà. L'hanno dovuto, ma veramente, no lui mi sa l'hanno depotenziato anche 3 volte, 2-3 volte addirittura. Togliendogli del tempo all'invisibilità della super, togliendogli del danno che faceva, rallentandolo un po' nella sua prima abilità stellare. Regà, l'hanno depotenziato un botto nel corso del tempo. Probabilmente la seconda abilità stellare l'hanno un po' potenziata a uno degli ultimi bilanciamenti, ora non ricordo. Però, ecco, quella prima abilità stellare di Leon l'hanno depotenziata svariate volte. Ma anche proprio il brawler stesso è stato depotenziato svariate volte, perché appena uscito ai tempi, e sto parlando veramente di ere fa quando uscì Leon, era un qualcosa di veramente fuori da ogni schema, cioè proprio di un altro livello. Non so se proprio ai livelli di rosa addirittura, ma penso siamo lì, forse anche di più. Non lo so, raga, ditemi anche qui la vostra sotto nei commenti. Fatto sta che era veramente devastante. Per ultimo, ma non per importanza, e ci tengo anche a precisare che questa non era una classifica dal primo all'ultimo, ma era in ordine sparso, ci voglio mettere una cosa non troppo recente in realtà, ma tra tutte quelle che vi ho elencato oggi, era di sicuro la più recente, ovvero 8-bit, con Extra Life, quindi la seconda abilità stellare. Regà, ci fece un intero video su questa abilità stellare perché era rotta agli inizi. Cioè, ovviamente tu morivi, rinascevi con tutti e tre i colpi carichi, con l'immunità, l'immortalità e spaccavi tutti. Ora l'hanno depotenziata svariate volte, adesso non hai più i colpi carichi, l'immunità dura di meno, e l'hanno depotenziata adesso è utilizzabile, tra virgolette, ma prima era un qualcosa di incredibile. Cioè, prima ci risolvevi la partita, era assurdo, troppo forte. Ma devo dire che un po' tutti i brawler di cui abbiamo parlato oggi ormai sono abbastanza bilanciati, dai. Però ripeto, voglio sapere la vostra nei commenti. Io vi ricordo che vi aspetto su Instagram, questo qui è il mio profilo, per il contest, per vincere gem, skin, quello che vi pare, su Brawl Stars. Lasciate un bel mi piace se vi può interessare un nuovo episodio su qualche altra classifica, sempre su Brawl Stars. Iscrivetevi al canale se non questo è fatto, perché siamo sempre più vicini ai 750.000 iscritti. Io vi invito anche a venire su tutti gli altri miei social, ho TikTok, ragazzi, c'è il link in descrizione, il mio secondo canale dove porto Fortnite, anche di quello trovate il link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, che più che altro vi abbia un pochettino interessato. Vi ringrazio che siete arrivati fino a questo punto del video, quindi fino alla fine. Per me è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo episodio qui sul mio canale, oppure appunto sul secondo canale, trovate il link in descrizione per Fortnite. Ciao!